Una partita che è un po' lo specchio di questa stagione, una Roma molto volenterosa che poi per sotto rimonta, però non basta e l'Europa si allontana sempre di tutto. Una grande prestazione quest'oggi potrebbe essere l'ultima partita all'Olimpico di Luis Enrico, un tuo giudizio sul tecnico asturiano? Luis Enrico e noi, così continuiamo il lavoro che avevamo cominciato e secondo me lo facciamo adesso, vediamo un allenatore di questa stagione. Sabatini l'ha descritto, Luis Enrico è provato, te come ti sembra? Stressato, provato, lui stesso ha detto alla mia famiglia, insieme alle mie cose, parlavo di affezione. Una persona bravissima, un allenatore moderno, ci vuole pazienza, capisco anche di voi che sono arrabbiato, c'è una mancanza di risultati, dobbiamo continuare insieme. Grazie.